paolo di youtube oggi alle notte questa è la versione che voi già sapete 3 e 4 questa sera beccate con l'oro e pensate che 79 e 90 tutto è uscito a napoli è uscita anche sulla nazionale napoli nazionale e qui beccate il numero d'oro si è il quattro si è il tre è il terzo numero da 34 2 30 con 32 ma senza il 34 peccato perché sarebbe stato cenerendo una volta da volante eccolo qua questo verso il 20 ottobre sarà pronto quindi chi è interessato complimenti comunque anche per questa sigla e che vedo sempre il prof batte la matematica non sarei fatto di amici miei due volte è un qualcosa di eccezionale questa metodologia ma che è interessato già sapete 3 4 0 157 67 75 solo mandando i messaggi su whatsapp ma prima è tutto il giovedì chissà che non sarà un altro bubù ciao